ciao a tutti ragazzi eccoci qua partita col Bologna brutta brutta direzza della partita subito vabbè caccia di inizio si stiamo subito prima volta era molto bene la Roma infatti no vabbè lascia perdere vabbè se scherza quel tiro a busta de fava però diciamo che più volte noi la Roma l'ha fatto molto bene cioè è andato subito in pressing ha attaccato altra partita che deve fare ma vabbè che mi ha davanti fatto una line goal run per come la penso io ma sicuramente ci sono line goal run ci perono niente di che la commentiamo dopo adesso commentiamo le azioni ecco questo è il gol dopo 20 minuti l'unico tiro in porta esatto qua Alisson no Alisson eh ma li mortacci loro poi niente diciamo che viene da un fallo di mano adesso rivediamo si ma non è volontario ok rida no dai su non è un fallo dai su è entrato uno fischiato a noi stiamo accreditando un scandalo se è stoppata vabbè se è stoppata vabbè vuoi golli aieee rivediamo per me è sempre che è fallo di mano poi vabbè lui dice no vabbè ma non è che il portiere no non può nulla non può nulla perché no tu hai ingolato così il portiere veramente la toccarla con la mano ma non ci può fa niente gli hai ribazzato addosso si si no sicuramente come cazzo qua non ha fatto così il tanzo si no e vabbè il campanile il padre del ciclo è bello veramente bene e adesso a me vedete come 43 milioni mo che sta a fare no poi c'ho un'idea poi te la spiego dopo sei mesi qua vediamo il palo questo questo da me vedi spiegare questo chi ha fatto palo chi ha fatto palo ha fatto palo cioè come fai a non segna solo da Ucini c'è questa cosa a memoria eh a memoria però dai anche da Dzeko tre anni fa quando vuoi fare questo in questa palla entrava stava parata in un'altra partita si no riposiamo quella vincita guarda qui c'è stato un contatto al primo tempo su Schick per me la spinta gliela dà gli metto proprio le mani addosso secondo me non c'è problema guarda se ti vedi bene eccolo qui gli metti il tempo però qua Schick e gli metti proprio le mani addosso Irlander è immortale allora apposta quindi ha fatto una rigore non hai rigore ma non hai rigore davvero dai eh non so qui è sempre Schick la busta di prova non può neva fare niente a te la partita noooo nooo nooo nooooo noooo parla pure te prello te preoccupare si Si a questo tempo qui guarda sarà la... Allora troppi lanci lullini si no a parte quello quello è verissimo un tiro di battuto dei perotti, quello di prima il Florenzi non c'ha creduto perché gli scivola davanti di Francesco su tanti non ci abbiamo creduto si beh guarda se ti sono sincero, a me la Roma ha già giocato veramente al 20% poi questa è una cosa che io dovrò dire adesso che finiscono gli arazzi insomma con calma, commentiamo le azioni questo è il gol il gol è cieco perché Bugs Bunny deve sempre giocare si GOL! 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 deve sempre giocare grande, grande, grande si qua sta la balanza dei rotti la partita, la mette in piedi alla situazione poi ce l'abbiamo avuto noi li vediamo verso la fine a tutta occasione però mai con credito ce l'abbiamo avute si, ci mette al portiere ma è andato in anticipo si 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 e che cavolo è un bel gol eccolo qua un'altra volta anche meno è una 1 lo fanno lo fanno ma fate la pianta e il culo e quando ce l'ho ce l'ho eccoci qua dopo gli ariks diciamo subito una cosa di questa gamma vai perfetto vai vai è registrato la denunzio la denunzio e allora abbiamo giocato come hai detto tu prima negli ariks al 20% motivazione secondo me la testa a Barcellona sì quello ovviamente sì motivazione anche Dzeko a fine partita c'era l'intervista a fine partita l'ha detto anche lui ma non ce l'ha visto lo diceva Dzeko se vedeva hanno già dato veramente hanno spinto gli ultimi dieci minuti come forzannati che sono in una difficoltà in Bologna assurda ok allora io dico tre problemi e poi lascio la parola a te allora primo problema Cic allora Cic io sì veramente inconcludente da inizio dell'anno quando è subentrato non ha fatto un gran che tra nel gol in Coppa Italia a Torino è stato inutile però l'unica attenuante che posso dare no aspetta voglio vedere se è come nel primo anno Dzeko no? sì che magari non ha fatto niente vediamo il prossimo anno non ha fatto la preparazione da moglie tempo non bruciamolo come al solito perché c'ha 21 anni no e va bene Cic però inconcludente sono d'accordo con te perfetto secondo problema De Frel De Frel mamma mia perfetto non ti scalmana tanto che poi devia uno sturbo vedi te stai calmo osturbo quale sturbo oddio osturbo osturbo papà che c'hai se potrebbe sembra che è cambiato se potrebbe entrare Ojek che è cambiata la partita ovvio sta buono però non l'ha fatto male no sicuramente è meglio di Gerson a destra perché oggi diciamo gli altri due problemi fa meno utile però allora De Frel problema benissimo anche lui come Scic se potrebbe dire aspettiamo un anno vediamo però c'ha al peggio di Scic c'ha dalla parte contraria che lui comunque al Sassuola sempre giocavo titolare mentre Scic alla Sampdoria no perfetto terzo problema ah no aspetta sempre su De Frel ancora si si ho un quarto d'ora mi si è mangiato due gol due 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 una mezza e mezza scic poi terzo problema terzo problema la Roma non può giocare senza Nengolan si questo si è capito no anche senza Dzeko anche senza Dzeko perché entra e risolleva la partita Dzeko grande Dzeko non voglio più sentire parlare Dzeko basta parlare Dzeko perché per favore io basta e che cazzo non se ne può più basta prego la parola a te si strotto basta mi dispiace li voglio bene basta sono da Ucini strotto devi venire in giocatore vediamo strotto non esageriamo immediatamente non esageriamo insieme a Gerson con la nonna Gerson ha una bella offerta si 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 speriamo di farci i soldi pagati per me anche Scic cosa è un'altra ma fa bella doccia come mi hai detto di si aspettavo un anno no ti ho detto aspettami e tu mi hai detto si si che te lo ti dico vabbè vabbè si io basta sono un po' stufato da aspettare la gente vorrei vincere perché la Juve non aspetta nessuno e vince e non fa sempre la Juve non sarei con Maga non sarei con Maga non sarei con Maga la Trentina ad esempio c'ha ragione può aspettare tranquillamente Ghesa andati 5 anni Venetù andati 3 anni e gli toccare la decima quindi basta non so stufato ok sono d'accordo dritto vabbè via un anno fa bene 40 milioni non li vari via riprendi a 40 milioni e chi se lo compra 40 milioni non fa niente si perché poi ti dà pure al presidente della Santa Maria ci rimettiamo ci rimettiamo facciamo qualcosa per stanotte non basta non lo voglio più vedere a parte lasciamo perdere il gol perché il gol va bene che hai magnato di più però non dà più il fritto in mezzo al campo esatto allora partita messa male perché l'Inter ha due partite da recuperare quindi c'è il rischio anche che ci va sopra si l'Inter si perfetto e la Lazio Benevento quindi sulla carta si vince sicuramente vince sulla carta dovrebbe sicuro che vince ok e quindi vabbè quindi la partita adesso è inutile parlarne volevo parlare di una novità che ci sarà dalla prossima settimana se ci riusciamo si abbiamo aperto un nuovo canale non diciamo il nome perché ancora no scherzo non farò stupido abbiamo aperto un nuovo canale dove parleremo di videogame quindi recensioni si si parliamo un po' di ultimi giochi che sono usciti anche qualcuno vecchio è la madonna ok tutto work in progress è stato creato il canale non diciamo il nome ve lo diciamo alla puntata io sto con gli infopotami dopo il Barcellona perché vediamo se siamo riusciti a mettere insieme il video che dobbiamo fare e tutto quanto quindi vabbè noi ci rivediamo mercoledì con il suo infopotami dopo preghiamo la partita con il Barcellona e poi in campionato con il Gialle Rosso giochiamo domenica alle 18 con la Fiorentina nel mezzo della Champions del Gialle Rosso vediamo di mettere un nuovo video sul nuovo canale oppure metterlo su questo e cercate poi vediamo faremo sapere mercoledì perfetto un saluto da Giallo e da Rosso ciao a tutti buonasera ciao ciao ciao